Eccoci tornati a parlare del business plan. Come vi ho detto, il business plan deve raccontare un po' quello che è la storia della nostra azienda dall'idea. Quindi in qualche modo si tratta di far vivere l'azienda ancora prima che questa inizi fisicamente ad esistere. Qual è la caratteristica fondamentale del business plan? Perché un business plan realizzato in questo modo funziona? Perché all'interno abbiamo tutto il percorso dell'attività. E man mano che lo sviluppiamo possiamo considerare e riconsiderare tutte le cose che non stanno funzionando. Infatti il business plan in genere non è solo uno. Il primo business plan viene buttato giù con i dati che abbiamo, con le idee che abbiamo. Ne facciamo bene tutti i conti e alla fine riusciamo a capire se il gioco vale la candela. Abbiamo la possibilità tramite tutto ciò che abbiamo scritto di individuare quali sono i punti deboli, i punti da cambiare. Il business plan realizzato in questo modo ci permette di vedere in anticipo tutte quelle che sono le problematiche di un'attività che noi ci saremmo trovati a percorrere fisicamente. E a quel punto sarebbe stato un po' più complicato rimediare all'errore in quanto avremmo già investito denaro, saremmo già partiti e ci saremmo già approcciati al pubblico in un certo modo. Se invece dobbiamo cambiare strategia, idea, assetto del personale, piuttosto che ridurre gli investimenti tecnologici all'interno, tutte queste cose noi le possiamo vedere preventivamente dal business plan. Tra l'altro possiamo anche divertirci a modificare le diverse variabili e vedere come reagisce il risultato finale in merito a queste variazioni. Quindi questo oltre a essere un giochino anche molto divertente se vogliamo, è un qualcosa che purtroppo non viene mai preso in considerazione seriamente. Infatti, come vi dicevo anche in un altro video, tre attività su quattro nell'arco di cinque anni chiudono. Ma uno dei motivi fondamentali per cui chiudono è proprio questo, non viene fatto a monte un business plan scientifico ben preciso e studiato. Ovviamente non posso andare nello specifico di ogni voce in questo video, servirebbero ore, ma vi lascio ovviamente la porta aperta per chiunque mi volesse consultare, sono a disposizione e possiamo affrontare insieme tutte queste tematiche. Ciao, un saluto! Grazie a tutti